Giunge domani sera alla volata finale Riflettori, il talent di Tele Sardegna che per quattro settimane ha dato spazio a cantanti, ballerini, prestigiatori e artisti, accomunati da un sogno, a fermarsi nell'isola con quella che è la loro più grande passione o che in alcuni casi è già lavoro. Alla conduzione Criffi sorridendo, il comico influencer e speaker amatissimo in Sardegna, qui alla prima esperienza di conduzione televisiva. Dopo il grande successo di ascolti delle prime quattro puntate, i 13 migliori talenti saliti sul palco fino a ora torneranno per vincere la sfida finale davanti a una giuria d'eccezione. Ad affiancare la cantautrice e artista Claudia Aru, co-conduttrice del programma e per l'occasione presidente di giuria senza diritto di voto, a votare saranno l'editrice di Tele Sardegna Caterina Cossedu, la giornalista e volto noto di Tele Sardegna Carlotta Lucatto, il noto illusionista Alfredo Barrago, padrone di casa del teatro Udini e poi l'attore, conduttore e comico Demo Mura, l'influencer Andrea Pinna delle Perle di Pinna e ultimo, ma non per importanza, il frontman dei Tamuritta, il cantante Sergio Piras. In palio, tra gli altri premi, la possibilità per chi vincerà il programma di girare una clip promozionale con la regia di Tele Sardegna. Un appuntamento di chiusura a un programma che, tra esibizioni, chiacchiere e ospiti in studio, ha dato l'occasione a tanti artisti sardi di esprimere il loro potenziale davanti a una grande platea televisiva. Appuntamento domani sera, 2 aprile alle 21 su Tele Sardegna.